eccoci buongiorno buongiorno siamo in diretta benvenuti siamo in diretta con la talent coaching tv e in particolare con la rubrica dedicata alla talent edizioni sono viviana dallora la direttrice della talent edizioni il brand che può accompagnarti a pubblicare il libro creare nel cassetto oggi do il benvenuto a viviana grimaldi buongiorno viviana giorno viviana non ci possiamo sbagliare oggi allora oggi viviana ci presenterà un libro molto particolare il titolo di questo libro è tempesta elettromagnetica in arrivo è un romanzo con cenni autobiografici allora facciamo innanzitutto vedere questo questo libro così particolare così curioso un romanzo veramente intrigante allora viviana è una script supervisor lavora su film e serie tv italiani nella sua descrizione autobiografica scrive che per molti anni si è occupata e scrivendo storie di altri e un giorno leggo le sue parole un'idea bizzarra si è fatta strada nella mia mente proprio come un film e allora viviana puoi condividere con noi una panoramica generale di questo libro e soprattutto di questa idea bizzarra perché già intrigante l'idea che tu la definisci un'idea bizzarra e il titolo ci porta in una dimensione particolare ma a te la descrizione del libro bene allora innanzitutto è stato proprio bizzarro il modo in cui mi è arrivata questa idea bizzarra perché un giorno mi sono apparse delle immagini proprio come un film e mi è arrivata questa storia tutta insieme quest'idea tutta insieme io mi sono stupita di me stessa perché io appunto non ho mai scritto però ho preso il quaderno e ho iniziato a scrivere praticamente la scaletta di tutto il film quindi sono arrivati i personaggi sono arrivati i nomi è arrivata questa storia d'amore sono arrivate delle intrisa di cose mie personali e e quest'idea di questo switch temporale legato appunto all'incontro dei due protagonisti in un giorno particolare che è l'11 11 2011 e quel giorno appunto la protagonista che è seduta in un bar legge su un giornale abbandonato lì vicino questo titolo tempesta elettromagnetica in arrivo diciamo che questa tempesta elettromagnetica insieme a questa data particolare è come se creasse uno switch temporale dove questi due ragazzi si incontrano che li porterà a uno strano fenomeno che è quello che allora non lo anticipiamo teniamo un po il nostro pubblico sospeso intanto salutiamo martina caffo che fa parte della talent edizioni ciao martina ci sta salutando ricordo ai nostri ascoltatori che potete scrivere in chat magari domande che vi vengono da porre proprio all'autrice di questo libro e allora viviana quali temi affronta questo romanzo ci sono dei temi importanti molto significativi tu lei già un po accennati ce li vuoi spiegare un po meglio beh sicuramente questo libro porta un messaggio ben preciso che in una parola si potrebbe definire resilienza e perché questi due personaggi che comunque sono giovani sono belli hanno tutto si amano al primo sguardo ma si trovano poi davanti questa cosa appunto quasi sovrannaturale che però prelude a una possibile loro fine anche molto veloce e però loro non si lasciano andare a vittimismi non si lasciano prendere dallo sconforto e portano avanti questa loro visione della vita dove il presente è importante e quindi scelgono di viversi con più intensità possibile ogni giorno che la vita gli regala quindi i personaggi sono un ragazzo e una ragazza che si trovano usiamo questa parola che in questo libro veramente non ci sta che è casualmente in questo bar con questo ginseng non riuscivo a parlare di questo incontro di come è scattata la magia di questo incontro e soprattutto chi sono questi due personaggi possiamo svelare i nomi certo allora la protagonista si chiama miriam ed è un insegnante di yoga a 30 anni ed è una tipa abbastanza acqua e sapone un po naif non si trucca tiene i capelli legati in maniera casuale diciamo che non è la classica trentenne molto attenta al look al trucco all'apparenza diciamo ecco è una persona a cui l'apparenza non importa perché pur essendo così giovane cerca altro e lui invece c'è joshua ed è anche lui ha 30 anni ed è un pubblicitario molto affermato nonostante la giovane età perché molto talentuoso e la sua caratteristica principale è questa bellezza che lascia tutti senza fiato però lui di particolare ha che pur essendo bellissimo anche lui non è una persona molto riservata molto profonda e quindi diciamo nella relazione con le donne non è uno che si fa mille storie per quanto potrebbe ma anche lui è ricerca qualcosa di più profondo e quando incontra miriam infatti lui è da solo da un po di tempo e proprio la sera prima una ha incontrato una ragazza carina ad una cena che lo ha invitato e lui nonostante non sia rimasto particolarmente colpito da questa ragazza decide di accettare e proprio nel momento in cui incontra lei lui sta accettando l'invito di questa ragazza non svegliamo poi se accetterà se andrà l'invito di questa ragazza perché teniamo un po questa sospensione perché la sospensione il filo conduttore di questo veramente speciale romanzo intanto saluto daniela crocetta che pone una domanda allora dice buongiorno mi colpisce il per contatto all'opera e sono curiosa di sapere quando sono arrivate le immagini che sono arrivate tipo film eri in uno stato meditativo? Diciamo che era un momento particolare perché erano gli ultimi giorni del lockdown e io stavo facendo un ciclo di quattro meditazioni con degli americani che stanno sul monte shasta e che sono meditazioni molto profonde e stavo in attesa del collegamento dell'ultima meditazione mancava un'ora e in quell'ora è accaduto che dentro di me un po sentito come una voce che mi parlava che mi diceva devi scrivere e io rispondevo a me stessa ma che devo scrivere io non ho mai scritto ed è come se prepotentemente invece tutta questa vicenda questa storia e personaggi ma anche personaggi di contorno tutti i loro amici sono già arrivati come quasi come i personaggi in cerca d'autore che sono arrivati che prepotentemente dicendomi facci vivere e quindi sì ero in uno stato pre meditativo comunque venivo da tre giorni di meditazioni molto potenti infatti io penso che questa cosa sia strettamente legata a quel momento lì perché evidentemente mi ha portato in una connessione interiore che mi ha permesso di dar voce e spazio a questa cosa che evidentemente doveva nascere doveva venire fuori in altri tempi io magari non avrei dato ascolto a questa cosa presa dal mio lavoro presa dalle mie cose invece era un momento particolare un momento di ascolto profondo che ha favorito questo ulteriore ascolto questo invito alla scrittura in questo caso ok Daniela dice capito grazie della risposta allora ritorniamo ai personaggi del tuo libro come li hai sviluppati nel corso della storia della tua narrazione quindi inizia questo iniziano queste questo turbinio di emozioni perché è un racconto dove queste emozioni si susseguono allora come hai accompagnato i tuoi personaggi proprio attraverso queste fortissime emozioni che che provano a cui la vita li pone davanti allora innanzitutto diciamo tutto il turbinio di emozioni che riguarda il loro incontro e c'è molto di mio per una cosa che è accaduta a me chiaramente in condizioni diverse tutto romanzato però la descrizione di quello che loro sentono è una cosa mia personale quello che che mi piaceva tanto era raccontare questa storia d'amore perfetta che quella a cui tutti un po' aneliamo no e visto che nella realtà non è semplice che questa cosa accada mi mi apriva il cuore raccontare la perfezione di quest'incontro di queste due anime comunque predestinate a incontrarsi che si riconoscono perché in realtà è loro è un riconoscimento vero e proprio non lo capiranno subito ma solo in seguito e quindi per me era importante che queste due persone continuassero ad amarsi eh conoscendosi eh amandosi subito in maniera profondissima eh che è che questa cosa rimanesse costante per per tutto il film mi è stata accompagnati in questa in questa loro storia d'amore eh alimentandola no attraverso le tue parole questa storia d'amore si alimenta pagina dopo pagina si struttura anche sì sicuramente eh e quindi sì loro diciamo che non possono fare a meno di stare insieme cioè sono eh due persone che che man mano che si va avanti nella lettura si trova assolutamente naturale ehm che si amino non so a me a me scrivere anche rileggere di queste due persone che si amano in questo modo in qualche modo da speranza non so come dire che 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 ci siano anime destinate a incontrarsi e ad amarsi eh in questa maniera così estemporanea così fulminia ma appunto non casuale come dicevi tu assolutamente invece non casuale e quindi potremmo dire che questo che questo tuo romanzo è un inno all'amore fra tutte tutti gli altri messaggi che contiene perché è densissimo di messaggi ma che il filo conduttore importantissimo fra gli altri adesso ne parleremo è proprio l'amore quindi questo questo motore così importante così unico e così ehm così ben descritto nel tuo romanzo no? Quindi questa unione meravigliosa che viene proprio voglia di assaporare eh però questo questo sapore lo lasciamo ai lettori del tuo del tuo romanzo senti Viviana ehm nel tuo romanzo come accennavi prima ci sono eh simboli e elementi un po' misteriosi eh per esempio come questa tempesta elettromagnetica che cos'è questa perché non tutti magari possono aver percepito il senso di questa di questa definizione che cosa è successo che cosa significa per te e che cosa significa per il il tuo romanzo questa tempesta elettromagnetica e soprattutto questi numeri quindi tu fai dei riferimenti chiaro al potere della numerologia e della simbologia che sta dietro a tutto questo ci vuoi raccontare un po' puoi dare qualche indicazione in più per i lettori che magari sia per quelli che conoscono tutto questo ma soprattutto per chi non conosce questi aspetti così intriganti così importanti allora la tempesta elettromagnetica per me appunto simbolicamente rappresenta un momento in cui tutto diventa possibile in cui come se varie linee temporali si aprissero e infatti loro si ritrovano in in questa cosa ed è come se entrassero in una linea temporale diversa però soltanto loro cioè per gli altri il tempo continua a scorrere in maniera lineare normalmente per loro invece c'è c'è uno strano movimento del del tempo che non è più lineare o perlomeno non è più diciamo comparabile a quello delle tutte le persone che li circondano e e quello della numerologia sì anche quella è una data che mi è venuta totalmente in maniera spontanea non l'ho scelta non l'ho decisa e la numerologia non riguarda soltanto la data del loro incontro ma anche la loro data di nascita perché i due personaggi che hanno moltissime cose in comune scoprono di essere nati lo stesso giorno che è l'1 1 1981 a luna di notte quindi è come se appunto le loro anime avessero scelto di incarnarsi nello stesso giorno avessero progettato di ritrovarsi 30 anni all'età di 30 anni proprio in questa data molto forte l'11 11 poi è un portale uno dei portali più potenti che che esistono quindi mi piaceva che questa cosa del portale unita alla tempesta elettromagnetica in arrivo rendesse possibile questa cosa un po fantasy di questo tempo che per loro comincia ad andare in in maniera diversa e che li li trova ovviamente impreparati infatti loro all'inizio sono anche un processo forte processo di rimozione perché la loro mente dice che non è possibile che per loro il tempo stia andando così avanti arriva poi un punto invece in cui è evidente e quindi devono cominciare a fare i conti con questa cosa ed è lì che viene fuori la loro resilienza la loro forza la loro richiesta agli altri di non abbattersi di non addolorarsi ma di continuare a circondarli di amore e di affetto perché se effettivamente la loro vita si sta così accorciando è importante viverla nel migliore dei modi e quindi tutte le persone intorno a loro si adeguano a questa resilienza mettendo da parte le loro paure la loro ansia sono tutti più o meno bravi a rimanere sereni poi loro hanno di bello che sono molto ironici su questo quindi continuano sempre a fare dell'ironia rispetto a tutto ciò che gli sta succedendo quindi per me questo era un messaggio molto importante per arrivare poi a dire la mia visione a raccontare la mia visione della vita e della morte che la morte non esiste che le anime continuano a vivere a rincontrarsi in questo caso ad amarsi anche fuori dal tempo ecco tu hai detto questa parola l'ultima parola che hai detto è il tempo in questo romanzo è uno dei punti cardini quindi questo tempo che improvvisamente per i protagonisti va in accelerazione quindi che senso ha il tempo un po' l'hai già svelato nella tua frase ma che senso vuoi che arrivi al tuo lettore il tempo che il tempo non esiste e che ok è che è solo una una struttura della mente umana quella del del tempo lineare perché io penso che invece siano possibili tante reali infinite realtà contemporaneamente e questa storia vuole in maniera leggera comunque portare anche questo messaggio no che è tutto possibile che non che ci sono infinite possibilità questo quindi è un romanzo che apra la speranza apra la speranza di questo che è possibile questo amore meraviglioso è possibile oltrepassare la soglia del tempo nel concetto comune quindi questo tempo che non finisce mai in realtà e quindi la morte che si avvicina così velocemente ai due protagonisti è semplicemente come dicevi tu una delle tante soglie uno dei tanti portali che ci spostano forse semplicemente una parola un po azzardata la mia semplicemente in una dimensione diversa è questo che il tuo romanzo fra le altre cose vuole trasmettere sì 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 questo è anche mi piaceva l'idea di raccontare che se due anime sono destinate a incontrarsi si incontreranno e adesso non posso svelare il finale del libro però l'idea è quella che se non è oggi non è domani non è tra dieci anni ma se due anime devono incontrarsi anche solo per un giorno anche per fare un piccolo tratto di vita insieme quello succederà ma quindi apre veramente il cuore apre alle possibilità infinite questa vita ci può dare se ti chiedessi a chi pensi sia rivolto il tuo romanzo ma io penso un po a tutti sicuramente essendo appunto la storia di due trentenni essendo una storia d'amore e dove ci sono appunto poi tanti altri protagonisti che si muovono le cui vite si intrecciano anche di maniera particolarmente strana penso che sia molto attrattivo per i giovani dal punto di vista della storia dal punto di vista del messaggio sottile che lo attraversa invece è per tutti e sicuramente per le persone che hanno una visione più vicina alla mia ma a me piacerebbe che questa visione arrivasse proprio a persone che invece hanno ne hanno una totalmente opposta cioè che in questa vita siamo nati per per sposarci fare i figli lavorare e poi finisce tutto ecco per me non è non è questa la visione di vita che ho maturato in tanti anni di ricerca e magari questo libro in questa maniera così leggera può arrivare a mostrare che esiste una visione alternativa a quella che ci hanno inculcato ecco questo mi piacerebbe in linea e proprio in linea con questo martina ci scrive questo allora ho letto il tuo libro i numeri che hai coinvolto mi toccano molto da vicino sono nata all'11 1 del 71 e il mio nomastico è l'11 11 data di nascita del nonno paterno di cui porto il nome metto da parte il mio lato strega e attivo quello del coach gestaltico e come curiosa di anime ti chiedo qual è stato il tuo personale viaggio nello scrivere questo libro di cosa ti sei accorta nello scrivere questa storia di cui non ti eri accorta prima di canalizzarlo e scriverlo beh sicuramente io man mano che scrivevo mi stupivo del fatto che scrivessi mi guardandomi da fuori dicevo ma davvero sono io seduta a questo computer che sto scrivendo questa cosa con tutta questa fluidità naturalezza io non mi sono mai intanto l'ho scritto in 40 giorni eh che è un tempo abbastanza breve poi il libro era anche molto più lungo lo l'ho un po sforbiciato anche grazie ai suggerimenti di viviana e quindi sicuramente mi ha svelato un talento che non conoscevo di avere che non sapevo di avere e quindi mi sono stupita di ritrovarmi a scrivere e mi guardavo dicevo ma davvero sto scrivendo che bello wow c'è una possibilità c'è una riscoperta di un talento una scoperta addirittura di un talento e questo vuol dire magari poter tenere questa porta aperta proprio sulla scrittura perché è una fra le cose fra le domande che ti vorrei fare proprio questa cioè hai incontrato delle sfide particolari o dei nei tuoi momenti di ispirazione no devo dire di no è andato tutto molto liscio e soprattutto mi divertivo e la cosa incredibile è che mi emozionavo con i personaggi ridevo con i personaggi o pianto mentre scrivevo una scena piangevo quindi io ero in totale connessione con con i personaggi e questo per me è stata una cosa una scoperta bellissima perché è stata un'esperienza nuova e non è stato per me mettermi lì ogni tanto vedo nei film questi scrittori che hanno le crisi che stanno lì che buttano fogli che non gli arriva l'idea per me è stato l'esatto contrario sono stata in un flusso scritto tutti i giorni con divertendomi tantissimo e è felice di riconoscere la la l'espressione di questo nuovo talento in me quindi questo è meraviglioso quello che ci sta dicendo è meraviglioso perché davvero può servire anche a chi ha il famoso libro nel cassetto e non trova il momento giusto perché pensa a quelle immagini proprio tratte dai film in cui ci sono tutti questi fogli questi appunti in realtà dai veramente il messaggio che è come la talent edizione dice sempre prova a tirar fuori quel libro nel cassetto lasciati fluire lascia che le emozioni arrivino quindi grazie per questo tuo messaggio allora noi siamo quasi alla fine di questa nostra chiacchierata è volata in questo modo surreale esattamente come il tuo romanzo siamo andati in accelerazione temporale c'è qualcosa che non abbiamo detto e che voi invece vorresti raccontare al tuo al tuo pubblico a chi leggerà il tuo romanzo no per non sveloare troppo non saprei sicuramente c'è tanto di me e anche delle mie esperienze in quelle che sono le loro esperienze spirituali quindi c'è un viaggio sciamanico che per me è stato bellissimo scrivere perché appunto parti personali poi sono andate totalmente invece a a giocare con elementi totalmente inventati e devo dire che inventare cose mi piace moltissimo quindi un talento nel talento facile scrivere soltanto di esperienze personali per esempio personaggi non hanno hanno delle cose che riguardano me ma caratterialmente nessuno dei due poi più di tanto mi somiglia cioè se non negli interessi se non mi piace la carbonara non so però in realtà sono definiti in maniera totalmente fantasiosa e quindi questo per me è stato molto divertente perché l'immaginazione ha avuto libero sfogo e poi alla fine ha creato le personaggi anche molto delineati e quindi insomma questa questa è stata Viviana un'ultima domanda che cosa è che è la nostra classica inchiusura di questa rubrica che cosa consiglieresti suggeriresti a chi ha quel famoso libro nel cassetto e ancora non ha non lo ha tirato fuori per la per l'esperienza che hai avuto con la talentazione con la tua scrittura sì la mia esperienza appunto è stata che io ho scritto il libro tre anni fa e ovviamente l'ho mandato a tutte le case editrici possibili e immaginabili senza avere risposta poi ogni tot ci riprovavo finché a un certo punto ho detto vabbè non so se avrò dovuto scriverlo per leggerlo soltanto io però questa cosa mi stonava perché proprio la modalità in cui mi è arrivato secondo me rimandava anche al fatto di divulgarlo e poi casualmente tramite un'amica sono entrata in contatto con Viviana che mi ha dato questa possibilità dopo appunto più di due anni che l'avevo scritto e la cosa per me molto bella è stata che nello scambio mi ha aiutato con le sue indicazioni a mettermi quasi in posizione esterna rileggerlo e capire cosa effettivamente non funzionava e quindi ho lavorato in maniera mirata e anche molto veloce su quelle cose e alla fine devo dire che magicamente è diventato più scorrevole e più fluido quello che consiglio a chi ha un libro nel cassetto è di lasciarcelo per un tot e poi di riprenderlo dopo sei mesi perché bisogna allontanarsi un po dal da quello che abbiamo scritto per poter essere più neutrali e più oggettivi possibile quando poi lo rileggiamo io l'ho sempre cambiato per questo lo sguardo dell'osservatore quindi staccare da tutto quello che è stato bene Viviana allora io ti ringrazio ricordo che la Talente Edizioni pubblica libri di persone che hanno qualcosa da raccontare qualcosa da da descrivere come ci diceva Viviana nella sua intervista nella scrittura ho scoperto un talento nel talento ne ha scoperto un altro ecco la Talente Edizioni fa anche questo la Talente Edizioni è fatta da me ma anche da un comitato editoriale che proprio si prende cura degli autori segnalando dove come si possono muovere per una scrittura più fluida ringrazio Viviana Grimaldi facciamo rivedere il tuo libro Viviana vi ricordo che e per tempeste elettromagnetica in arrivo si può trovare su tutte le piattaforme online saluto Viviana saluto i nostri appuntamento al prossimo incontro con la rubrica della Talente Edizioni che sarà il 15 novembre ma con una novità non sarà più alle 12 e 30 ma alle 19 grazie a tutti grazie ciao